Murgia in tavola, itinerari sensoriali del gusto. Si chiama così l'iniziativa che si è svolta questa mattina nella sede della Fondazione Bonomo di Andria. Il fine è quello di valorizzare i prodotti tipici locali, puntando alla promozione e alla diffusione dei valori del territorio della Murgia. Damiana Sgramella. La Fondazione Bonomo ha voluto promuovere questa iniziativa fondamentalmente per riaccendere i riflettori su questa struttura che a nostro avviso deve essere riconsegnata non solo alla città di Andria ma all'intero territorio. Abbiamo voluto rimettere attorno al tavolo tutte le figure istituzionali che pensiamo debbano aiutarci a ridare questa realtà al nostro territorio. La finalità è quella di coniugare il turismo culturale anche all'enogastronomia. Turismo agroalimentare, nuove opportunità di sviluppo. Oggi è un'occasione importante per valorizzare i prodotti tipici locali ma non solo. Questo territorio ha bisogno che tutte le figure istituzionali, a partire dalla Fondazione, dal Parco, dalla Provincia, dalla Regione, dal Polo Museale, per cui c'è una miriade di enti che poi alla fine non dialogano tra di loro e quindi succede che non si riesce mai a fare una strategia sul turismo necessaria per questo territorio. Io spero che questo sia l'opportunità oggi per iniziare a parlare e chiederò che si possa fare un tavolo permanente di ragionamenti. E quindi alla fine c'è bisogno che le istituzioni iniziano a ragionare, a mettersi insieme, altrimenti se ognuno guarda il proprio orticello, questo territorio rimarrà come sempre abbandonato senza una strategia vincente.